Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui murierius, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Madre Dei, ora pro nomis peccatoribus, nunc e Dio, ora mortis nostre, ame. Camminare in montagna è anche sapersi fermare ritrovando la serenità. Questa è una frase che ho coniato personalmente a proposito di questo sito che è diventato un sito religioso. Io mi sono sempre chiesto durante il mio lungo girovagare in montagna quale fosse il motivo per cui i nostri avi creavano il Capitello, la Madonnina, la Croce di Vetta e alla fine i motivi sono sostanzialmente tre. Sicuramente un motivo religioso come è il motivo per cui ci troviamo oggi, ma era anche un motivo di tipo geografico. Questi siti erano dei punti fiduciari, dei punti di riferimento dove ci si trovava per il traffico che anticamente si svolgeva in queste montagne. Ma era anche un motivo per tirare il fiato, un po' come oggi. Qualcuno di voi mi ha maledetto in senso bonario perché si fa tanta fatica per venire su e anche qui si tira il fiato. Ma come dicevo prima qualcuno di voi, tutti i pellegrinaggi richiamano lo sforzo fisico. Ad esempio mi viene sempre in mente questo lungo peregrinare di Santiago di Compostela è l'esempio massimo dello sforzo fisico. Anche qui ci vuole una mezz'oretta di fatica per arrivare. Dicevo mi ha sempre incuriosito questa storia antica di creare un Capitello che era appunto una consuetudine dell'epoca e ho pensato di riprendere queste tradizioni. Tradizioni antiche che non devono essere guardate come una nostalgia, devono essere guardate per vedere cosa facevano i nostri avi e per guardare avanti. Quindi benvengano le tradizioni, benvenga la volontà di riportare diciamo quello che era la consuetudine di un tempo. Oggi ci troviamo qui, è una bellissima giornata, è la quinta edizione della festa della Madonna del Landro del Collon e questo termine così lungo deriva dal fatto che appunto abbiamo questa grotta che è il Landro del Collon. Prima c'è con noi un famoso geologo che è Piccin che mi ha raccontato le origini di questa roccia e si chiama Calcare del Vajont che è un po' una caratteristica di una certa quota del Visentin. Lo ritroviamo anche in altre località e certi spuntoni rocciosi che vengono chiamati CREP. Questa è proprio una delle caratteristiche. Vorrei ringraziare innanzitutto voi tutti per essere giunti qui con uno certo sforzo e vorrei ringraziare chi mi dà il supporto per questa manifestazione che sono sostanzialmente due associazioni quindi un'associazione dei pescatori di Vittorio Veneto e l'altra associazione è Vallapisina Iniziative. Vorrei ringraziare l'azione, abbiamo qui il direttore Don Alessio Magoga che è anche parroco e sempre molto gentilmente aderisce a questa mia iniziativa per celebrare la messa. Ringrazio anche il comune di Vittorio Veneto che mi dà il patrocinio e c'è un rappresentante oggi che è Bruno Fasan, lui è addetto alle pignatte diciamo giù al Borgo Colom perché ci aspetterà dopo per un semplice rinfresco con tutti i limiti del Covid. Ecco questo è un argomento purtroppo sapete tutti quanto ostico è quest'anno e speriamo che lo sia soltanto per quest'anno. Cercate di mantenere come diceva Don Alessio la distanza in modo che manteniamo appunto un minimo di regolamento. Ecco questa festa poteva saltare quest'anno proprio per questo motivo. Abbiamo lottato fino in fondo e con piccoli stratagemmi grazie appunto a mia moglie e a Rita all'ingresso con la checklist con il gel alle mani abbiamo risolto in qualche maniera. Mi raccomando mantenete sempre indossata la mascherina perché poi abbiamo due televisioni che ci stanno controllando. Qui abbiamo la tenda tv e ringrazio anche Federico Campo dall'Orto per essere venuto. Abbiamo Telebelluno con Mauro dalle feste che appunto riporterà le immagini nel bellunese. Tutto quello che faremo oggi verrà proiettato in differita e quindi avremo anche un segno nel web e nei social. Un ringraziamento anche lo vorrei fare ai proprietari del sito della grotta che sono i fratelli Segat. Qui mi pare ci siano anche i figli per avermi dato la possibilità di allestire questa magnifica grotta con la Madonnina. La Madonnina che ricordo è qui dietro ed è un tabernacolo con ferro battuto a mano del maestro Francesco Piazza di Lorenzago che è l'artista dei papi. Lui ha fatto parecchie opere per i due papi che si sono avvicendati nel turismo di Lorenzago. Mi pare di aver detto tutto. C'era un argomento e lo metto per ultimo perché è particolarmente toccante. Io oggi oltre a dedicare a noi alla montagna e questa giornata vorrei dedicarla anche a una persona scomparsa che è un elemento del soccorso alpino Sergio Francese che ha partecipato alle riprese di un documentario che ho fatto io personalmente come regia e come montaggio che è Tre Cime di Lavaredo, la Trinità delle Dolomiti. Purtroppo quel giorno, diciamo due sabati fa, mi pare che era, no sabato scorso c'era questa manifestazione in montagna e per un incidente con l'elicottero questa persona è mancata ed è stato veramente un grande lutto per la comunità intera delle Dolomiti, per Auronzo e per il gruppo del soccorso alpino. Quindi vorrei veramente dedicare questa messa e questa giornata anche a Sergio Francese che era un grande amico e una grandissima persona per me e per tutti quanti. Bene, a questo punto io direi che ho detto tutto, passerei più che la parola la voce al coro che ringrazio della presenza, perché questa è una parte del coro Monte Cimò di Miane che ci siamo sentiti un sacco di volte ma poi per il meteo abbiamo dovuto anche saltare due edizioni, questa volta il Signore ci ha aiutati anche per le condizioni meteorologiche e abbiamo veramente l'onore di avere con noi quindi il coro Monte Cimò. Grazie e buon ascolto. Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, infinita, infinita, infinita. Tutto il creato vive in Te, segno della Tua gloria, tutta la storia ti darà, onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo questa Eucaristia in questo luogo così bello e significativo che ci aiuta a sentire la presenza di Dio accanto e vicino a noi. Con umiltà al Signore intendiamo affidare anche la nostra fragilità invocando la sua misericordia. Diciamo insieme, confesso a Dio nipoteca, e a voi fratelli, che molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Grazie. Grazie. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della Tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo ora la parola di Dio. Dal libro del Siracide Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricordati i precetti e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Il Signore è buono e grande nell'amore Il Signore è buono e grande nell'amore Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così Egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore Se noi moriamo, moriamo per il Signore Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita Per essere il Signore dei morti e dei vivi Parola di Dio Vendiamo grazie a Dio Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore Come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni gli altri Alleluia 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 Il Signore sia con voi E con la vostra vita Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù Gesù e gli disse Signore Se il mio fratello commette colpe contro di me Quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose Non ti dico fino a sette volte, ma Fino a settanta volte sette Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re Che volle regolare i conti con i suoi servi Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale Che gli doveva diecimila talenti Poiché costui non era in grado di restituire Il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva E così saldasse il debito Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa Il padrone ebbe compassione di quel servo e lo lasciò andare condonandogli il debito Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo Restituisci quello che devi Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa Ma egli non volle Andò e lo fece gettare in prigione Fino a che non avesse pagato il debito Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti E andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto Così anche il Padre mio celeste farà con voi Se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello Parola del Signore Solo qualche pensiero Due fondamentalmente per la predica Alla luce delle letture che abbiamo ascoltate Prendo spunto dalla seconda lettura San Paolo ha delle espressioni molto efficaci Riguardano soprattutto quella che è la vita del cristiano, del battezzato Nessuno di voi vive per se stesso, nessuno muore per se stesso Lo dice del cristiano innanzitutto Vale a dire che il cristiano una volta intessuta questa relazione viva con Cristo Vive e muore insieme con Gesù La sua non è più una vita da solo La vita del cristiano è sempre una vita insieme per a favore di Cristo In un certo senso potremmo dire che questo vale anche per ogni essere umano Credo che il senso della vita Come per il cristiano è vivere la propria esistenza in una prospettiva di dono per Gesù Questo vale anche per ogni essere umano E credo sia un po' il segreto dell'esistenza Quando uno comincia a vivere la propria vita per un obiettivo, per uno scopo Che non sia semplicemente se stesso e i propri progetti Allora la sua vita diventa una vita generativa Mi pare una cosa molto importante questa Molte volte noi viviamo situazioni di fatica, anche di tristezza, di sofferenza Perché rischiamo di vivere le nostre esistenze come vite ripiegate su se stesse Che cercano di vivere per se stesse E non per un altro obiettivo, per un'altra meta, per un'altra persona Ecco, è un po' credo che San Paolo venne a ricordarci questo segreto della vita Se vuoi vivere una vita felice Anche passando attraverso i sacrifici Che fanno parte dell'esistenza Devi imparare a vivere la tua esistenza in una prospettiva di dono Verso qualcun altro, per qualcun altro Per un obiettivo, per un'altra persona, per qualcuno che ami Per una comunità alla quale vuoi bene Per il Signore tuo Dio Allora la tua vita diventerà una vita generativa, felice E questo era un po' il primo pensiero Dalla lettura di San Paolo ai Romani Il secondo pensiero invece riguarda il tema che attraversa la prima lettura del Vangelo Se avete fatto attenzione è molto evidente l'argomento che viene proposto Ed è quello del perdono Lo ribadiva il testo che abbiamo ascoltato dal libro del Siracide Uno dei libri che fanno parte dei cosiddetti libri sapienziali dell'Antico Testamento Sono delle considerazioni di sapienza che un padre affida a un figlio E quindi lo invita ad essere uno che non odia il prossimo Che impara a perdonare Se vuoi una vita felice, secondo il suggerimento che emerge Dalle letture che abbiamo ascoltato quest'oggi Impara a perdonare Non covare l'odio nel tuo cuore Ed è quello che anche Gesù ribadisce nel Vangelo Avete sentito quella parabola Con i due servi Tutti e due devono Un debito molto grande Il primo al padrone Il secondo al servo che è stato perdonato dal padrone E avete visto i due atteggiamenti diversi Di Gesù invita fortemente ad assumere l'atteggiamento del padrone Che perdona, che rimette i debiti Ecco, del primo servo in particolare Ecco, il tema del perdone è molto importante Appartiene alla tradizione cristiana in modo molto forte Ma anche qui direi Non è semplicemente un impegno Un precetto che ci viene dato da Dio Noi devi perdonare Anche qui c'è una grande saggezza Una grande sapienza Che viene comunicata Perché possiamo essere felici Alla fine Tante volte noi ci portiamo dietro Dei rancori personali Delle fatiche Dei pesi Per delle relazioni Che non abbiamo saputo sciogliere Con un semplice atto di perdone Di riconciliazione Anche in questo caso Diventa una via verso la felicità E la sapienza Quella di saper dire Ti perdono Lasciamo stare quello che è accaduto Questo piccolo screzio Ce lo gettiamo alle spalle Ci mettiamo una pietra sopra Andiamo avanti Tante volte non sappiamo dire queste parole E ci portiamo dietro appunto Pesi Che rendono le nostre vite Più affaticate Più dolorose Ecco, concludo Ci aiuti il Signore da un lato A imparare a vivere la nostra vita Non solo per noi stessi Ma anche per qualcun altro Il Signore Gli altri La comunità E ci dona il Signore anche a imparare Quanto è saggio E quanto porta felicità Saper perdonare Saper perdonare anche noi stessi In tante occasioni E saper perdonare il nostro fratello È una via Per poter vivere in modo più sereno E rapacificato Insieme professiamo la nostra fede Credo in un solo Dio Padre onnipotente Creatore del cielo e della terra Di tutte le cose visibili e invisibili Credo in un solo Signore Gesù Cristo Unigenito Figlio di Dio Nato dal Padre Prima di tutti i secoli Dio da Dio Luce da luce Dio vero da Dio vero Generato Non creato Della stessa sostanza del Padre Per mezzo di Lui Tutte le cose sono state create Per noi uomini E per la nostra salvezza Discese dal cielo E per opera dello Spirito Santo Si è incarnato nel seno Della Vergine Maria E si è fatto uomo Fu crocefisso per noi Sottoponzio Pilato Morì e fu sepolto Il terzo giorno è risuscitato Secondo le scritture È salito al cielo Siede alla destra del Padre E di nuovo verrà nella gloria Per giudicare i vivi e i morti E il suo regno non avrà fine Credo nello Spirito Santo Che è Signore e dà la vita E procede dal Padre e dal Figlio Con il Padre e il Figlio Adorato e glorificato E ha parlato per mezzo dei profeti Chiesa una Santa Cattolica Apostolica Professo un solo battesimo Per il perdono dei peccati E aspetto la risurrezione dei morti E la vita del mondo Che verrà Amo Fratelli e sorelle Il Padre buono e grande nell'amore Esaudisce la preghiera Di chi si rivolge a Lui con fiducia Apriamo il nostro cuore Diciamo insieme Donaci, oh Padre, un cuore nuovo Donaci, oh Padre, un cuore nuovo Perché la Chiesa sia autentica e credibile testimone dell'amore di Dio E nel dialogo con le diverse confessioni cristiane Sappia trovare modalità nuove di evangelica collaborazione A favore degli uomini del nostro tempo Preghiamo Donaci, oh Padre, un cuore nuovo Perché i governanti affrontino con audacia evangelica i problemi generati dalla pandemia Mettendo al centro le giuste attese delle famiglie e dei lavoratori Preghiamo Donaci, oh Padre, un cuore nuovo Perché le vittime di guerre, persecuzioni e fame Costrette a lasciare le loro terre Trovino nella nostra carità la gioia per riconoscersi fratelli e sorelle in Cristo Preghiamo Donaci, oh Padre, un cuore nuovo Perché la nostra comunità sappia accogliere dalla parola del Vangelo L'ispirazione per una vita all'insegna della gratuità E sostenuta dalla grazia Preghiamo Donaci, oh Padre, un cuore nuovo Affidiamo al Signore anche i nostri fratelli defunti In particolare affidiamo a Dio il nostro fratello Sergio Francese Che appunto vogliamo ricordare in questa Eucaristia Insieme a tutte le persone che sono morte Cercando di salvare altre persone È un sacrificio prezioso Che ci testimonia quanto è importante e possibile Fare qualche cosa per il nostro prossimo Preghiamo Donaci, oh Padre, un cuore nuovo Accogli, oh Padre, le nostre preghiere Tu vivi e regni nei secoli dei secoli Ho capito di essere Amin 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 Il tuo volto mi consola, vedo in te l'immensità. Al tuo fianco mio cammino, tu mi guidi nella vita. Se il tuo braccio mi sostiene, nell'angù se giungerò. Nel silenzio io ti cerco, io ti cerco, mio Signore. Io ti cerco, mio Signore. Io ti cerco, mio Signore. I doni e le preghiere del tuo popolo. E ciò che ognuno offre in tuo onore, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazia al Signore nostro Dio. E' veramente cosa, buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo Figlio di Lettissimo. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i Cieli e la Terra sono piedi della tua gloria. O Sanna, O Sanna, O Sanna, O Sanna nell'alto dei Cieli. O Sanna, O Sanna, O Sanna, O Sanna nell'alto dei Cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore, promuoviamo la tua risurrezione e l'attesa della tua valutazione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi la perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Obedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi a regni nei secoli dei secoli. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donna il mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, è soltanto una parola, io sarò salvato. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. 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 , Sur il paradiso, la chagondare per le tue montagne. San Maria, Signora del Padre, 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 Grazie.